Grazie per la visione! Vieni qui, piccolo concorrente! Ciao! Ti devo prima chiedere come ti chiami! Hai capito? Aurelio! Ancora non te l'ho chiesto! Allora, piccolo bambino, come ti chiami? Aurelio! Ah, che bellissimo nome che è Aurelio! Amici spettatori, c'era una famosissima strada che si chiama Aurelio! No, ma Aurelio! Io Aurelio! Mario Bianchi, se dovete comprare uno che ogni due secondi mi interrompe, non lo so, chiamatemi qualcun altro! Cosa gli date a questo figliolo? Il Prozac! Non lo so, il Viagra! Voglio una domanda! Vuole anche la domanda! Senti questo piccolo stronzo che cosa mi chiede! Allora, facciamogli la domanda! Sì sì! Allora, come è morto... A, con 33 poltellate sullo stomaco... B, investito... Da un'automobile... O C, per un'ernia del disco... B, investito nell'automobile... A, Mario Bianchi! Finalmente uno che ha dato la risposta esatta! A, siamo veramente mo'... Ma, Mario Bianchi... Ci deve essere un errore! Qui, la risposta è la A... Con 33 coltellate sullo stomaco... Ma non è vero! No! No! Uno dopo due o tre si schiva! No, no, no! Invece così... Combino! Hai sbagliato! Colpo di scena, amici spettatori! Ha sbagliato! Posso girare la ruota? Ma non è vero! Non è vero! Ha sbagliato! Ha sbagliato! Ha sbagliato! Ha sbagliato!